Yes, yes, not, no La Roma calcio 8 non ci sta e si aggrappa a Seferi che se ne va in azione individuale, centralmente Seferi, il suo mancino è quello dell'1-1 che risolleva le sorti della squadra di Gabriele, ci voleva il gol del numero 9 L'Italia che attacca, Roma che difende, c'è uno scambio sulla sinistra, doppio scambio che va a liberare Pier Giovanni in area di rigore, secondo tentativo e seconda rete dei ragazzi dell'Alitalia, siamo 2-1, gran cinismo dei ragazzi di Bernardo Siamo in chiusura di primo tempo, c'è il lancio di Quinquigno dentro, un rimpallo, Carocoi malissimo verso la propria porta, va a beffare Calcaro, sfortunato, autogol di Carocoi che regala il pari alla Roma calcio 8, siamo 2-2 Roma più incisiva, Seferi come al solito sulla destra, lato corto per cioccare dentro, Calcaro con i piedi Calcio di punizione per la Roma, parte Quinquigno, la sua botta e Calcaro distinto Fallo laterale battuto lungo da Sestiti, il rimpallo va a favorire, Seferi Calcaro la para, Seferi ancora in possesso, il tacco d'amverso ancora Calcaro e poi la blocca sulla linea Che parata! Fallo laterale all'Italia, palla su Carocoi che subisce fallo Lodi è pronto, vediamo se andrà direttamente in porta il numero 9, parte la traiettoria a rientrare, Carocoi Tutto solo riporta in vantaggio l'Alitalia e riesce a riscattare l'autogol, 3-2 La Roma calciotto vede l'abisso ma deve reagire in qualche modo, allora Danversa Il cucchiaio dentro per Seferi al volo e Bomber Danversa mette i panni dell'assistman, Seferi la pareggia, 3-3 allo Sport City Che partita! C'è la Roma calciotto che ci vuole provare fino alla fine, allora Giannini dall'altra parte Parte il sinistro, la parata di Calcaro e poi sulla linea l'Alitalia Incredibile, il muro dei ragazzi di Bernardo Partita tesa, fino alla fine con Calcaro che va a rinviare nel metà campo avversaria Potrebbe partire un contropiate con Seferi che se l'allunga vuole andare col destro Seferi Una deviazione da parte di Carocoi in fallo laterale Quando non c'è più tempo finisce qui, 3-3 tra l'Italia calcio e il Roma calcio a otto La sfida che poteva decidere molto nella zona play-out rinvia tutti i verdetti alle ultime due giornate Siamo entrati forse con una mentalità non giusta Dovevamo essere più umili e più operai come si dice nel calcio Però poi quando a fine partita il migliore in campo è il portiere dell'altra squadra Forse un po' più di cattiveria ci poteva aiutare Ma ha parato veramente bene, ha parato tutto tranne i tre gol che abbiamo fatto Forse più cattivi era meglio Dobbiamo essere soddisfatti del punto Purtroppo oggi avevamo 3-4 assenze dei giocatori fondamentali E eravamo solo 9 Loro comunque davanti molto bravi, abbiamo dovuto stringere i denti Dovevamo vincere assolutamente Dovano essere 6 punti in due giorni Purtroppo ne sono arrivati solo 4